A voi tutti ben ritrovati dal vostro Giuseppe De Vitis. Cari amici, per fortuna che ogni tanto ci sono delle pause. Al mattino risveglio ancora delle precipitazioni, poi però tendono a cessare. E vedete nella seconda parte della giornata, sì, le nuvole saranno sempre presenti, ma sarà una nuvolosità un po' più irregolare e che difficilmente produrrà delle piogge, dei fenomeni significativi, quindi ancora risveglio le ultime precipitazioni, poi tende un po' a migliorare o a migliorare parzialmente, è già una cosa, è già una cosa. Guardate le temperature minime tra i 4 e i 9 gradi, attorno ai 10 gradi centigradi lungo le coste, temperature massime, comprese tra gli 8 e i 14 gradi centigradi. Amici, Diretto 7 è davvero tutto, noi ci riaggiorniamo presto, arrivederci.